parliamo di immaculate la prescelta film horror in arrivo nelle sale il 11 luglio diretto da michael mohan con sydney sweeney è un filtro altro che ha tanti attori italiani perché appunto abiettato in italia veramente tanti attrici soprattutto perché anche ambientato in un convento di suore e parla di cecilia una ragazza giovane che sente il bisogno di diventare suora perché sente che sente la chiamata diciamo è molto giovane è molto bella va in questo convento che è un convento che ha anche molte suora anziane di cui bisogna prendersi cura sono un po rincoglionite in questo convento dovrà prendere i voti e li prenderà ovviamente ma appunto come si intuisce dal trailer sono queste cose risaputa nonostante lei sia vergine comunque libata insomma senza aver mai avuto rapporti sessuali con un uomo si ritrova ad essere incinta quindi da lì il titolo no immacolata pura 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 ma incinta questo perché appunto è da scoprire da scoprire vedendo il film con la storia non posso andare oltre a questo e quindi entro già nel nella qualità di questo film allora immaculate un film con le suore con le suore in un convento dove un po fa è un po strana la scelta degli attori in questo film perché fondamentalmente le suore non giovani quindi le anziane vabbè sono donne anziane quindi non c'è nessuna valutazione estetica da fare ma le suore giovani quelle che appunto sono lì per per diventare suore che sono giovani sono tutte comunque ragazze attraenti quindi già questa è una scelta di produzione molto particolare perché non sembra proprio di essere in un film horror e questo capiterà anche in altri momenti vi spiego in che tipo di film sembra di essere ci sono dei momenti in cui le suore fanno il bagno insieme sono tutte giovani senza la divisa da suora ma con delle vestaglie bianche che bagnate dall'acqua in queste vasche in cui stanno sembra una specie di spa il posto in cui fanno il bagno e si lavano tra di loro con queste tuniche bagnate che fanno intravedere capezzoli e seni non sembra di stare in un film horror sembra di stare in un film era porno soft porno erotico degli anni 70 con le suore del convento e tutta quella roba lì ed è curioso perché in un certo punto del film c'è ancora un tipo di musica che richiama quel tipo di cinema attenzione questa è una cosa rilevante in realtà dopo dopo veniamo al perché è rilevante fondamentalmente il film si trascina per tantissimo tempo cioè da quando lei arriva e rimane incinta ci sono tantissimi momenti in cui ti viene da dire ok però andiamo avanti invece si trascina molto ed è abbastanza noioso all'inizio il film sembra che non voglia mai partire a un certo punto il film parte e ha anche dei momenti un po' violenti ha dei momenti di horror splatter horror splatter gore che non ti aspetti in un film così perché è un film che sembrerebbe comunque un film mainstream un film che non ti aspetti così violento invece poi ha dei picchi in cui ci sono delle scene horror horror gore fatte anche abbastanza bene che però non ti aspetti perché sembrava di stare in un altro tipo di film con tutte le suore carine e queste queste scene erotiche è davvero un film che che confonde oltre che annoiare nella prima parte annoiare molto e avere comunque una recitazione abbastanza scadente e questo meccanismo della continua traduzione che a un certo punto annoia tantissimo cioè lei è una straniera quindi parla solo inglese si trova in italia e tutto quello che le dicono le viene tradutto da una suora o da un prete che c'è lì che ripete continuamente quello che gli viene detto quello che le dice agli altri è una roba che all'inizio ci può stare poi diventa veramente frustrante il film è lo valuto scadente proprio scadente nella scrittura scadente nella nella recitazione non per nulla scadente negli effetti speciali quando servono e quando ci sono in quei momenti il film cambia fin sembra non sembra più non sembra più immaculi sembra un altro film sembra un film che ha una sua identità che un'identità più violenta più da film gore purtroppo questo avviene in pochissimi istanti quindi io l'ho sottolineato ma non vorrei che si percepisse una quantità di gore che non c'è no ce n'è poco fatto bene e si concentra quasi tutto sul finale non è un film di qualità è un film noioso un film banale anche nella sua storia nel solo nella sua sceneggiatura però una particolarità strana all'interno del film ci sono cose che che non riesco a spiegarmi cioè tutte queste scenette sensuali come appunto possiamo vedere nel trailer sidney sweeney nuda che si tiene il il seno sotto una doccia un seno super prosperoso le scene soft porno mentre le suore si fanno il bagno le scene gore la violenza e un finale un finale che in qualche maniera risolleva un pochino le sorti di questo film perché il finale è un finale alla fine che un po sorprende perché è molto violento ed è molto weird è molto strano è molto sopra le righe rispetto a tutto il resto del film quindi al di là del fatto che a me il film non è piaciuto non mi ha convinto per niente e del film salvo appunto un finale un po simpatico divertente che non mi è dispiaciuto che davvero veramente ti fa piacere almeno insomma finire la pellicola in un modo finire finire il film con un pochino più di brio ecco ti fa piacere trovarti appunto più divertito nel finale dopo un'ora e mezza di noia totale ecco la cosa che mi stranisce tantissimo di immaculate questa volontà di inserire questi riferimenti sia un cinema soft porno del passato sia appunto questo questo violenza queste scene da oro proprio estremo davvero non ho capito cosa volesse fare michael mohan però sicuramente il risultato non è qualcosa di buono ecco alcune scene sono abbastanza ridicole quindi si ride si ride si ride si potrebbe anche ridere vedendo sto film questo è tutto per la recensione di immaculate se vi è piaciuta mettete un like lasciatemi un commento se avete visto il film volete vederlo con il vostro parere e iscrivetevi al canale se vi interessa il cinema horror ciao